In cui sono stata più coinvolta era quello di sollevare questa domanda, di porla a chi lo legge. Quante volte anche tu, anche io abbiamo creduto a delle cose perché forse era più comodo o perché forse avevamo un po' paura, perché forse sospettavamo qualcosa e quindi ci rifugiavamo nella paura. Porci questa domanda senza giudicarci, ma semplicemente per chiarezza e anche per capire quante volte poi nel futuro magari ci troveremo in situazioni in cui dobbiamo prendere una posizione ed essere liberi di farlo cercando di rispettare gli altri, di rispettare anche l'idea che gli altri spesso non abbiano fatto niente di male anche quando vengono in qualche modo additati come colpevoli di cose non provate. Ecco, penso che sia già una buona regola, cioè chiedersi le cose fino in fondo e avere anche il coraggio di domandare, di esporsi, di prendere una posizione controcorrente. Ilaria, noi vogliamo ricordare il suo lavoro, la reputazione. Grazie, ringraziamo Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice. Grazie a voi, grazie mille, grazie.